Elezioni amministrative 2016 nel territorio, a che punto stiamo? Innanzitutto è importante dire che sul territorio si votano alcuni grandi, ma soprattutto Roseto è il più importante. Roseto è il secondo centro della provincia di Telamo, è un politico, si vota con il doppio turno, quindi è fondamentale per noi riconfermare il sindaco uscente Ennio Pavone. Credo che abbia fatto bene il sindaco, soprattutto in un momento di grandissima difficoltà, in un momento di crisi economica devastante e lui è riuscito a mantenere la barra dritta e questa volta finalmente il centro-destra è unito sotto tutti i fronti. Quindi la vittoria non può sfuggirci, fra le altre cose c'è un centro-sinistra spaccato su due candidati, abbiamo la dottoressa Ciancaglione candidata vicina a Sottanelli e si dice al presidente D'Alfonso, come dicono alcuni siti, dall'altra parte c'è invece il candidato dell'onorevole Ginobile, quindi credo che insomma ce la giocheremo, ce la giocheremo veramente, siamo convinti che ce la faremo. Io credo che il centro-destra unito non vede nessuno, perché abbiamo provato che cos'era il centro-sinistra, lo abbiamo provato in Regione, lo abbiamo provato in tanti comuni e non ha funzionato e quindi su questo e sugli altri comuni importanti dove si voterà chiaramente noi andremo con un simbolo civico, perché vogliamo con questo riunire più persone, più identità politiche e non solo quelle legate diciamo al centro-destra, ma aprirci anche alla società civile che magari non vuole candidarsi in una lista di partito. Lo faremo a Roseto, lo faremo a Pietro Camera, lo faremo a Castellalto, lo faremo a Bellanti, e lo faremo a Colonnella. Sicuramente sul Roseto faremo una lista proprio nostra legata al nuovo centro-destra, ma che invece andrà con un simbolo civico proprio per riunire diverse anime di persone anche della società civile.